Mi chiamo Claudio Modica, sono nell'azienda Sospirato, stiamo guardando il pomodoro mojito, il datterino, che seguendo il nostro tecnico Salvatore ci ha consigliato di utilizzare dei prodotti che dovevano risvegliare la pianta e dare dei risultati. Visto che noi abbiamo avuto un inverno molto freddo e lui mi ha consigliato di usare il Saltrat più il Rooter A per l'arradicazione e poi abbiamo usato anche il Tubo Root e il Floristart per continuare ad avere una bella pianta. Infatti voi potete vedere che se guardiamo noi di sotto si vedono le foglie un po' malate, un po' fredde, dalla stagione freddosa che abbiamo avuto e cominciando a salire si vedono i risultati dei prodotti che noi abbiamo utilizzato della Tradicop e quindi stiamo avendo dei buoni risultati. Speriamo di andare avanti e fare anche un po' di roba in più.